Sindaco Maggio, siamo qui a pochi passi dal ponte di Vidor, stanno cercando la signora con la sua bambina scomparsa da ieri sera, attivate tutte le forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato che informazioni ha in possesso in questo momento? A nulla di più di quello che già sappiamo, le forze dell'ordine stanno lavorando allacremente un ringraziamento va a tutti, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, i volontari AVAB che sono intervenuti speriamo di non dover dare una cattiva notizia, una brutta notizia la vicinanza in questo momento va ovviamente ai familiari e a tutta la comunità di Miane L'unica informazione certa che si ha a questo momento è che la macchina della signora si trova a Covolo vicino al bar Via Vai Si confermo, dove c'è il dispiegamento di forze dell'ordine, attualmente l'area è interdetta, non sappiamo altro